E il Canto dell'Emigrante, una passeggiata per le 20 regioni d'Italia. E il concerto evento organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ambasciata di Montevideo è andato in onda in streaming con il maestro Julio Cesar Huerta Sarpiano, Beatriz Lozano Soprano, Gerardo Marandino Tenore e Ulrich Schraber Baritono. Ascoltiamo l'ambasciatore italiano in Uruguay, Giovanni Iannuzzi. Buonasera, amici dell'Istituto Italiano di Cultura a Montevideo. È per me un placer stare qui in questa opportunità con il motivo di presentare l'evento di questa noce. È l'opportunità di celebrare il canto dell'Emigrante. Abbiamo alcuni artisti valiosi, il piano con il maestro Julio Cesar Huerta Sarpiano, il soprano Beatriz Lozano, il tenore Gerardo Marandino, il baritono Ulrich Schraber, che faremo un excursus con i canti di tutte le regioni italiane. Io spero, calentando i corrisi, di tutti gli ascoltano le musici delle origini italiane, avranno questa opportunità di assecarciare nuovamente la cultura italiana, che è un po' il compromesso che l'Istituto Italiano di Cultura lleva, di ripetire sempre e ricordare e adalentare la cultura italiana, anche in Uruguai, anche per gli ascoltatori e gli ascoltatori che hanno le nostre origini. Bene, spero che il programma, il evento, le guste e ora dico il sito a tutti gli artisti. Grazie per l'attenzione. Grazie per la visione!